L'Arizzo a un nuovo portiere, ufficiale l'arrivo a titolo definitivo dall'Empoli di Alberto Pelagotti. In carriera vanta 49 presenza in Serie B e 9 in Serie A. È già a disposizione di mister Dalcanto. Oltre all'Empoli, squadra della sua città dove è cresciuto, con cui ha debuttato sia in Serie B che in Serie A, da ricordare anche la stagione 2014-2015 quando difendeva i pali del Pisa con 36 presenze. La prima esperienza tra i professionisti della stagione 2008-2009 nel Manfredonia, nell'allora C2. In tutto ha collezionato nei vari campionati 127 presenze. Nei prossimi giorni si capirà se potrà arrivare il difensore Aghetino Pelagatti che è cresciuto proprio nelle giovani lì dell'Arizzo. Amaranto che sembrano interessati anche a Niccolò Belloni, classe 94, che vanta un discreto curriculum in Serie B con Modena, Provercelli, Ternana, a Vellino, nell'ultima stagione a Carpi con 11 presenze. Si tratta di un centrocampista offensivo, molto abile a giocare tra le linee. Nel frattempo è scattata la Fiorentina Mania con lunghe code per acquistare il tagliando per l'amichevole che si giocherà le 21 mercoledì sera allo stadio comunale Città di Arezzo. Un test che la Fiorentina considera molto valido in attesa del suo vero debutto in campionato dopo il rinvio della sfida con la Sampdoria. Vi aspettiamo numerosi mercoledì 22 ore 21 per l'amichevole Arezzo Fiorentina, stadio Città di Arezzo. Mi raccomando acquistate i biglietti in prevendita per evitare code e botteghini. Allo!